Salve a tutti, io sono Terenas e volevo informarvi che questa settimana non sarà presente lo stream. Il motivo per cui non sarà presente lo stream è molto semplice, il motivo è che andrò a Luca Comics & Games di quest'anno. Yeah! Che bello, non ho più paura di vedere che cosa si faccia a Luca Comics & Games e che cosa ci sia di solito. So che ci sono fumetti e giochi e cose da fare. Quello che farò io è che una porzione del mio tempo che passerò a Luca Comics lo dedicherò allo stand di HyperX. Il mio sponsor HyperX ha allestito uno stand e in questo stand saranno presenti delle varie attività, delle competizioni, degli 1v1, dei momenti in cui potete farmi le domande che volete voi, tipo su di GovLegends o su di me stesso perché se magari siete curiosi della mia vita personale e proverò a rispondere come meglio posso e ci hanno anche dei premi, delle cose dei giveaway, insomma le robe da fare, cose carine, molto funny, molto cute. E nulla, per il resto mi troverete in giro, se mi trovate in giro chiedetemi per foto, firme, firme dove volete, dove volete, quasi ovunque, non ovunque, quasi ovunque. Sapete che cosa intendo? Non fate i faggot. E nulla, io sarò là, proverò essere presente e farmi vedere quanto posso. Mi dispiace per tutti quelli che non ho potuto incontrare la Mirage Games Week, che ho provato ad andare in giro quanto potevo, ma era strapieno di gente del tipo, sono quasi soffocato a un certo punto sotto la folla, tipo... Non so se avete mai visto la scena del Re Leone che tipo il padre di Simba viene calpestato da questo tipo tormento, come li chiami? Non è uno stormo? Vabbè, avete capito, è stato schiacciato a morte da tipo gazzelle o a cosa del genere, non mi ricordo. Nulla! Quindi ci vediamo a Luca, sarò presente tutti e quattro i giorni, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Sono quelli i giorni, spero, perché sennò devo rifare il video da zero. Vabbè, non importa. Se volete sapere quali sono le attività, vi metto il link in descrizione delle attività. Sono sul sito di LOL Game. E nulla, questo è tutto. Venite a salutarmi, perché ci tengo. Ci tengo davvero. Bella, ragazzi. Ciao, ciao!